Il secondo premio Bergamo Film Meeting che va al film Shubuk di Jacek Luszynski. Grazie, grazie mille. Grazie mille. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille. 福 a моio filmy, il problema di madre con i figli. Il primo è molto importante nel meritoippo il valore Village, perché sembravi che ec teascia il problema e devi proteggervi l'assci מעz su nel seno della carazzo. Grazie mille. Allora, io sono qui dal vivo quindi riesco a parlarvi e vi ringrazio moltissimo perché il fatto che io abbia ricevuto questo premio vuol dire che voi avete capito il film e siete entrati nei sentimenti di una mamma con un figlio con dei problemi e quindi siete in grado di capire questi problemi e quindi anche di sostenere le persone che vivono queste situazioni. Quindi grazie.